All'esposizione universale di Milano la Basilicata è protagonista non soltanto attraverso il proprio padiglione regionale 200 metri quadrati che vedranno la regione lucana in scena fino al 23 maggio. Accanto alla presenza istituzionale infatti non meno importante sarà quella dei gruppi di azione locale che attraverso una serie di eventi dentro e fuori expo cercheranno di valorizzare il prodotto lucano dal punto di vista turistico ed enogastronomico come sottolinea il coordinatore dei GAL Leonardo Braico. Posso dire che durante questo evento nel Palazzo Mondadori nel centro culturale di Milano i GAL organizzeranno una ventina di eventi per rappresentare le varie identità della Basilicata, le varie identità che riguardano i centri storici, le abbazie, gli attrattori turistici e tante altre iniziative e insieme a queste iniziative ci sarà anche la degustazione dei prodotti tipici perché miriamo come coordinamento dei GAL a valorizzare il nostro territorio sotto il profilo turistico ed enogastronomico.